Sarà un Natale migliore di quello che stiamo vivendo adesso, dobbiamo fare tanti punti. Carta canta. Buonasera mister, volevo chiederle un giudizio sulla prestazione di Jack Buonaventura, sappiamo quanto ha sofferto e abbiamo visto che però è in grado con i suoi strappi, con i suoi cambi di ritmo, di cambiare le sorti della partita. È lui uno dei pochi giocatori a cui si può affidare il Milan per risollevarsi? Io non credo che sia uno dei pochi giocatori che il Milan abbia a disposizione forte, ma sicuramente Jack è un giocatore forte, è un giocatore intelligente, io amo allenare i giocatori intelligenti, amo molto meno allenare i giocatori poco intelligenti, nel senso che Jack sa quando muoversi, sa dove muoversi, sa quando aggredire, sa quando aspettare perché è un giocatore intelligente. Sta bene, sta meglio, sicuramente dopo nessun tempo ha strappato un pochettino meno, ma non male aspettarselo, abbiamo avuto Rebic che si è fatto male dopo pochissimi minuti, abbiamo altri giocatori in campo, Biglia ha giocato ma il grado avesse avuto un problema abbastanza serio l'altro giorno, e quindi ho tutto in campo per 90 minuti, sicuramente gli farà bene questi 90 minuti perché migliorerà la sua condizione fisica, ma Buonaventura è un ottimo giocatore, ma ce ne abbiamo anche altri. Ok. Ok. Grazie.